Alberghi di montagna chiusi per tutte le vacanze natalizie e quarantene per chi decide di passare il periodo all'estero. Il governo mira a blindare il paese natale per evitare di ripetere gli errori di ferragosto. Il mantenimento del coprifuoco alle 22 risponde anche a questa esigenza. E per impedire gli spostamenti sulla neve prende forma l'idea di chiudere hotel e resort. Tra le nuove restrizioni che dovrebbero partire dal 20 dicembre fino al 10 gennaio anche il divieto di circolazione da una regione all'altra. Nel pomeriggio i ministri Speranza e Boccia ne discuteranno con i governatori convocati per mettere appunto il DPCM in vigore dal 4 dicembre. Presidenti di regioni che invece vogliono evitare chiusure totali per salvare almeno la stagione scistica. La proposta sarebbe quella di permettere l'accesso alle piste agli ospiti degli hotel e ai proprietari delle seconde case. Resta aperta anche la questione economica soprattutto all'interno della maggioranza. In primo piano sempre il MES, il meccanismo salva stati da 37 miliardi per la sanità. I 5 stelle dopo una prima apertura di crimi tornano a dire no per Di Maio finché i pentastellati saranno al non richiederanno mai il MES.